Un modello di apprendimento intergenerazionale, quello proposto dal progetto nazionale L'Unione Crea il Lavoro, presentato all'Istituto Fermi di Ascoli Piceno. Una sorta di alleanza tra pensionati di CNA e studenti di otto città italiane impegnati tra corsi di informatica e attività artigianali. Sentiamo come nel servizio di Carlo Angeletti. È uno scambio alla pari quello tra 200 artigiani over 65 iscritti a CNA pensionati e altrettanti studenti di otto istituti superiori di sette città, oltre ad Ascoli Piceno, anche Perugia, Terni e Orvieto, insieme a Milano, Brescia, Bari e Foggia. Perché i più grandi possono tornare sui banchi di scuola per cogliere le opportunità offerte da internet e in cambio mettono nelle mani degli studenti conoscenze segreti dei mestieri artigiani. È il senso della quarta edizione di Tra Generazione. L'Unione Crea il Lavoro, che vede insieme Fondazione Mondo Digitale e CNA pensionati, in collaborazione con Facebook Italia. Avvicinare gli Over 65 iscritti a CNA pensionati alle opportunità che le tecnologie oggi offrono, anche per migliorare la professione dell'artigiano, di cui l'Italia è maestra, ma anche quello di far capire ai giovani le opportunità che questo settore lavorativo offre per le nuove professioni. Per tutto il 2018 in programma corsi di alfabetizzazione digitale nelle scuole, poi visite guidate in aziende, lezioni nei laboratori di fabbricazione, la novità di questa edizione, ma anche incontri con esperti sull'uso dei social network. Molto attiva in questo ambito CNA pensionati. In 26, per esempio, hanno ultimamente seguito lezioni di informatica con la guida di altrettanti giovani tutor. Ambiziosi in questo territorio, colpito così duramente gli obiettivi del progetto. L'unione della CNA pensionati in questo campo si muove attraverso tutti gli artigiani che sono andati in pensione alcuni anni fa e che conservano un saper fare molto importante. Un saper fare che va salvaguardato in questo mercato del lavoro che è mutato in questi ultimi anni in particolar modo, con un abbinamento importante dell'innovazione tecnologica. Dieci le regioni coinvolte nelle prime tradizioni dell'iniziativa.